cari aspettatori e cari ascoltatori e soprattutto carissimi amici non sportivi eccoci a un'altra puntata del non sportivo chiedo scusa per il ritardo epocale che non sono ancora neanche riuscito a preparare tutto quello che serviva io oggi sarei in ferdie per il primo giorno ma ovviamente il lavoro mi insegue e ho appena finito un paio di interviste con delle colleghe per il nostro progetto estivo appena concluso comunque sia non ci possiamo sicuramente lavorare lamentare perché il lavoro in ogni caso c'è e finalmente passiamo alla puntata odierna del non sportivo che continuerà per l'appunto a vedere la finale di championship nfc fra green bay peccas e san francisco 49ers nfc fra green bay peccas e san francisco 49ers eccoci qua andiamo a sfumare la nostra sigla che è activator power di andrew sitkov anzi no perché diventa una cosa fondamentale ed eccoci qua oggi abbiamo amata tutta la sigla praticamente anche se mi sono messo ogni tanto in mezzo io a rompere le scatole non so se avremo persone in diretta comunque ricordo che questo è il podcast il non sportivo del gruppo facebook casus belli sport games che si occupa appunto di simulazioni sportive e stiamo concludendo la replica nfl del 2019 siamo arrivati alla finale championship tra green bay peccas e san francisco 49ers nella puntata di ieri si era arrivati all'undicesimo minuto del terzo quarto e si direi di si stavamo con i 49ers in vantaggio per 24 a 13 e però ecco che una piccola parte o che sono riuscito a giocare stamattina per i fatti miei verrà presentata in versione highlights e non in versione gioco diretto ricordo che per la simulazione stiamo utilizzando il gioco solitario pro football di mike hillary e ricordo anche che stiamo per partire con replica 2020 quindi siete interessati mi raccomando venite sul gruppo facebook casus belli sport games e venite a iscrivervi non costa nulla più siamo più ci divertiamo ma adesso partiamo subito con il gli highlights di quanto è avvenuto nella parte non coperta la trasmissione precedente primo 10 dalle 35 per i green bay peccas lancio screen per williams che per una volta riesce a sfondare la linea avversaria 8 yard di 8 yard di guadagno e i green bay peccas si avvicinano a metà campo quasi concluso il terzo quarto terzo e 3 dalle 59 per i green bay peccas situazione importante per tornare a avvicinare l'avversario allen rogers alza la testa la linea tiene lancia verso johnny mo allison completato allison avanza per 3 yard palla oltre 70 e fuori dal campo green bay si avvicina la zona dei field goal palla sulle 5 yard difensive dei 49ers green bay peccas primo e goal lazard lancio per lazard touchdown green bay e la palla che rimane scusatemi green bay che torna sotto siamo la parita adesso va 20 a 24 palla sulle 25 per i san francisco 49ers corsa di mostard 5 yard secondo e 5 a 2 minuti e mezzo di partita garoppolo cerca sanders lancio in completo terzo e 5 dalle 30 terzo e 5 scatta il blitz dei green bay peccas garoppolo non riesce a vedere nessuno prova a correre viene fermato sulla linea di scrimmage penalità contro l'attacco declinata san francisco 49ers costretti al punt green bay peccas che devono recuperare soltanto 4 punti prima invece dalle 27 per i green bay peccas lancio per geronimo allison 14 yard di presa e i green bay peccas che si avvicinano a metà campo e partiamo con un secondo e 9 dalle 53 con 4 minuti sul cronometro e adesso andiamo a vedere se Aaron Rodgers torna a sentire il peso della diretta visto che mentre andavamo in onda per l'appunto non è che andasse benissimo mentre stamattina ha fatto tutto assolutamente per bene adesso andiamo a vedere quello che può succedere mancano solo 11 minuti a fine della partita salvo overtime dovremo riuscire a concluderla abbastanza comodamente quindi e sapere già oggi chi andrà al super bowl che se riesco iniziamo già a giocare da domani ecco qua seconde 9 dalle 53 abbiamo un abbiamo una situazione di shotgun per quanto riguarda i green bay pickers e la palla parte Rogers esce come fa di solito dalla tasca correndo verso destra probabilmente avremo un il suo solito famosissimo lancio in corsa il lancio in corsa è verso Geronimo Alison è una bomba ma Alison non arriva in tempo e quindi avremo un terzo e nove dalle 53 è evidente visto che Alison aveva quattro completi consecutivi che che Rogers sente quando parte la nostra diretta e peggiora le sue performance terzo e nove dalle 53 di nuovo in shotgun di nuovo in shotgun vediamo la difesa dei 49ers che si presenta di fronte a Rogers Rogers in realtà è una screen pass cerca Jones ma la palla sfugge dalle mani di Jones col più classico dei drop e quindi a questo punto avremo un quarto e nove dalle 53 con 4 minuti e 30 sul cronometro allora la situazione non è ancora così drammatica siamo 20 a 24 per i 49ers tutto sommato manca ancora una marea di tempo l'attacco dei 49ers non si è dimostrato particolarmente ispirato almeno in questo secondo tempo quindi io direi che dalle 53 piuttosto che tentare un terzo e nove e rischiare di subire almeno un field goal per non dire un touchdown che chiuderebbe la partita è meglio fare direttamente un bel calcio di quelli che possono andare in end zone cioè non in end zone ma dalle parti dell'end zone confidando nell'ottimo special team dei Green Bay Packers quindi entra J.K. Scott tenta un punt una grandissima prova dello special team dei Green Bay Packers e la palla è fermata sulla una yarda sulla una yarda da cui riparterà Jimmy Garoppolo in situazione diciamo così non certo invidiabile è anche vero che una squadra che corre così tanto come i San Francisco 49ers potrebbe tranquillamente ammazzare il tempo e veramente giocarsela al risparmio cercando di consumare tutto il tempo non pensiamo che ciò avvenga in realtà in quanto è comunque molto presto sarebbe un grave errore cercare già da subito di far macinare il tempo e quindi primo i 10 dalla una yarda palla ai 49ers fatemi controllare la situazione palla ai 49ers è un'azione di passaggio verso George Kiddo si cercano le mani sicure del tight end anche se la difesa di Green Bay sembra abbastanza reattiva infatti è partito un blitz è partito un blitz attenzione c'è il sack e c'è il safety 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 contro Garoppolo safety contro Garoppolo 5 e 10 altri due punti per i Green Bay Packers e siamo 22 a 24 forse un po' troppo pretenziosi partire subito con un tentativo di lancio anzi no anzi no anzi no non è un safety perché la palla è volata via no ma è stracoperta l'attacco quindi si è un safety per un attimo poteva quasi essere un touchdown su fumble no no è proprio stato un safety e comunque sia siamo 22 a 24 e come regolarmente avviene nel caso dei safety la palla ritorna alla squadra che ha segnato a differenza di quanto avviene dopo un touchdown o dopo un o dopo un un free goal realizzato benissimo quindi abbiamo di nuovo i 49ers Garoppolo non è che proprio abbia fatto questa grande figura ma la colpa probabilmente non è sua e comunque i Green Bay Packers che sembravano già eliminati praticamente da metà del secondo quarto invece sono tornati prepotentemente in partita quindi partiamo con partiamo con Wisnowski che tira una bomba micidiale nel senso che 85 100 cioè butta la palla una roba pazzesca la palla a terra praticamente sulla endzone avversaria se avete presente come si calcia i safety è praticamente il calcio più lungo che ha fatto Wisnowski quasi un punt ma di 65 yard quindi una roba impressionante anzi anzi no di 80 yard perché il punt della sua linea di scrimmage una roba impressionante Tyler Erwin il ritornatore dei Green Bay Packers non si aspettava una cosa del genere o invece si perché comunque prende la palla la ritorna di la ritorna di aspettate un secondo che ho sbagliato a guardare la ritorna di 26 yard quindi alla fine è stato quasi come fosse un kickoff normale e abbiamo un primo e 10 dalle proprie 26 yard per quanto riguarda i Green Bay Packers e quindi si riparte da questa condizione Aaron Rodgers gli basterebbe anche un field goal adesso a Rodgers per poter superare i 49ers e infatti i Green Bay Packers partono come se volessero insomma diciamo così difendere il gestire il conometro con una corsa ah ho dimenticato colpevolmente di dirvi chi ha fatto l'azione fondamentale il strip sack è stato Preston Smith che ha fatto quella che potrebbe essere una delle azioni più importanti della partita corsa di Williams a fronte di una difesa però dei 49ers che invece non si aspettava la corsa non lo sappiamo comunque Williams fa il suo lavoro decisamente bene e Williams prende parte primo down e molto molto di più arriva sulle 22 yard scusatemi avanza 22 yard arriva quasi a metà campo e infatti abbiamo avremo un primo e 10 dalle 48 yard Williams ha messo una corsa di 22 yard si conferma comunque in forma esattamente come Aaron Jones i due stanno spartendosi quasi equamente le portate dopo un inizio abbastanza dalla parte del backup di Jones e niente i 49ers per il momento stanno a guardare incredibile come questa squadra abbia dei momenti di assoluto spolvero assoluta grandezza per poi dopo avere dei momenti di blackout impressionante non lo possiamo dire nella nostra finzione ma poi quello che è successo tutto sommato anche al Super Bowl contro i Kansas City Chiefs benissimo primo e 10 dalle 48 abbiamo una nuova azione di corsa ancora di Williams la difesa dei 49ers non sembra particolarmente attrezzata per fermarlo in questo momento e Williams fa altre 8 yard 5 e 90 sul cronometro e avremo un secondo e 2 dalle 56 secondo e 2 dalle 56 sembra un po' come se stesse giocando al gatto col topo i Green Bay Packers in questo momento però adesso sono sempre sotto non vorrei che poi ci fosse uno sfoggio eccessivo di sicurezza la palla questa volta viene portata direttamente da Aaron Rodgers che viene fermato forse 2 yard erano un po' troppo per tentare un Kubisnik o comunque sia per tentare una azione di portata 6 e 40 sul cronometro abbiamo un terzo e 2 dalle 56 per i Green Bay Packers terzo e 2 dalle 56 la corsa di Aaron Jones Jones riceve l'endoff e viene fermato viene fermato una yard dietro la scrimmage probabilmente hanno messo la key come dicono gli americani sul corridore si aspettavano tutti la corsa di Jones e infatti la corsa di Jones è arrivata ma adesso abbiamo un 4 e 3 dalle 55 yard 4 e 3 55 yard sotto di 2 è una situazione veramente veramente complessa per i Green Bay Packers andiamo a vedere se c'è qualcuno in diretta che ci sta seguendo per chiedere loro cosa fare no oggi non c'è nessuno sarà anche perché sono arrivato un po' in ritardo e quindi dobbiamo decidere noi sceglieremo l'attacco o sceglieremo di puntare sulla difesa io ho visto come sta a giocare in attacco i 49ers io penso che calcio tutta la vita anche perché è un po' che questi signori qua non si stanno muovendo quindi facciamo un punt richiamiamo dentro per l'ennesima volta J.K. Scott e la palla viene appoggiata sulla 42 yard di punt palla appoggiata sulla linea delle 3 7 e 20 sul cronometro e adesso vediamo se i 49ers che hanno un possesso palla decisamente ridotto rispetto a quello dei Green Bay Packers che hanno fatto e disfatto la partita possiamo dire o comunque hanno fatto meno big play rispetto ai 49ers fino adesso vediamo se i 49ers saranno invece in grado di fare un unico drive partendo però dalle 3 per arrivare a mettere in sicurezza questa partita aggiorniamo le schede con le chiamate dei coach e mi compare una roba che non mi aspettavo dal 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 computer tipo Matthaus che dice che l'Inghilterra si meritava la sconfitta ma questo andiamo avanti dopo non ci interessa e andiamo invece a vedere quello che fanno a questo punto i 49ers di fronte a un drive particolarmente importante che comunque li vede ancora in vantaggio i 49ers si presentano sulla linea delle 3 Garoppolo riceve lo snap e è un lancio e da come si svolge l'azione è anche un lancio lungo si va a cercare George Kiddle che è scattato avanti ma il lancio è incompleto incompleto per Kiddle 7 minuti e 30 sul cronometro siamo esattamente alla metà del ultimo quarto e abbiamo ancora la palla per e abbiamo ancora i 49ers sulla 3 yard che hanno cercato di sorprendere la secondaria dei Green Bay Packers senza però riuscirci come seconda seconda e 10 una classica corsa invece del vetrano Matt Breda che però non fa molta strada 2 yard di corsa 8 minuti sul cronometro e Garoppolo si trova già con un terzo 8 dalle 5 yard momento molto molto importante per non restituire subito la palla ai Green Bay Packers andiamo a vedere col numero che è uscito avremo comunque un'azione di lancio avremo comunque un'azione di lancio su Samuel se la palla però riesce a partire andiamo a vedere la situazione la palla parte ma il lancio è incompleto 8 minuti e 10 lancio incompleto 4 e 8 dalle 5 e Green Bay Packers costretti a fare un calcio di allontanamento torna Wyshnowski a calciare ottimo calcio vista la posizione di campo da 51 yard la palla supera la metà campo i Green Bay Packers con Tyler Irvin però la prendono e attenzione perché Irvin rompe un placcaggio avanza ed esce dal campo solo 18 yard dopo e quindi praticamente con la palla sulle 56 i Green Bay Packers in realtà ripartono quasi da zona già da field goal perché ripartiranno dalle 38 difensive dei 49ers quindi primo e 10 dalle 62 offensive dei Green Bay Packers e adesso il tutto va nelle mani della lo special team dei 49ers non è stato assolutamente entusiasmante tutto è ora nelle mani della difesa dei 49ers che fino adesso in campionato è stata assolutamente dominante ma vediamo se riuscirà esserlo anche questa sera benissimo ecco quindi di nuovo Aaron Rodgers in campo Aaron Rodgers in campo hanno segnato il meno 1 dell'ultima corsa di Jones lo 0 dell'ultima corsa di Rogers l'8 di Williams non ho segnato niente mi sono fatto prendere dall'ultimo drive e non ne ho segnato nulla ok abbiamo una corsa azione di corsa quando mi fermo è perché escono giocatori che magari non sono presenti azione di corsa di Aaron Jones la difesa dei 49ers però appare piuttosto reattiva volano fazzoletti gialli nel frattempo Jones però riesce a girare l'angolo Jones parte Jones è partito corsa da 22 yard ma ci sono fazzoletti gialli penalità della difesa che probabilmente verrà declinata si sono 15 yard di fallo personale ma viene declinata la penalità che è servita solo a fermare il tempo 8.20 8.35 sul cronometro Green Bay Packers che sembrano assolutamente padroni della partita 22 pur ancora in svantaggio 22 yard di corsa per Jones aveva un primo e 10 dalle 16 difensive dei 49ers attenzione di nuovo una corsa questa volta per Williams ovviamente Jones era stanco dopo lo sforzo appena prodotto e Williams prende le sue 3 yard per entrare nel nono minuto di gioco secondo e 7 dalle 13 yard difensive dei Green Bay Packers e questo devo andarlo a vedere devo andarlo a vedere con questo numero qui che cosa fanno i Packers con un secondo e 7 vabbè vabbè con questo numero qui con un secondo e 7 si è abbastanza prevedibile a un lancio secondo e 7 con l'ancio siamo già nella red zone secondo il gioco che ricordo qui inizia dalle 15 yard il lancio lo schema prevede il lancio verso ancora Aaron Jones che in questo momento ha fatto i big play della partita la difesa dei 49ers come sempre è una macchina da guerra vediamo se Rogers però riesce a completare una scheda assolutamente piena di robe pericolose colpisce esattamente il completo Jones riceve la palla e viene fermato a una yard dalla chiusura del down quindi 9.35 avremo un terzo e uno a sette yard dal landzone dei 49ers la partita è veramente completamente girata a seguito di quella safety subita la garoppolo terzo e uno dalle 93 azione di corsa praticamente chiara è una kubi sneak Rogers cerca di portare la palla in avanti kubi sneak vorranno fazzoletti gialli Rogers non solo fa la kubi sneak no no è proprio una option Jones e Rogers porterebbe la palla in endzone sette yard e touchdown ma vediamo il fazzoletto giallo di prima è un fallo contro l'attacco dei pekers è un fallo personale e i pekers hanno una penalità da 15 yard dalla gioia del touchdown al 15 yard di penalità e al terzo e 16 terzo e 16 praticamente dalle 77 yard offensive 78 yard offensive scusate siamo passati dal touchdown a dover fare 16 yard per chiudere il down 22 yard per segnare ovviamente Rogers si presenta in questo terzo e 16 in shotgun il lancio è quasi dichiarato lancio che viene effettuato verso un giocatore mai visto fino a questo momento Mercedes Lewis è l'unico che più o meno si trova libero Mercedes Lewis però la palla non gli rimane in mano e quindi 10 minuti sul cronometro quarto e 16 dalle 78 entra in campo Mason Crosby per tentare un field goal dalle 39 yard per passare in vantaggio per il vantaggio dei Packers Mason Crosby 39 yard il calcio è buono e in questa partita che sembra non finire mai e riempirci di emozioni abbiamo i Green Bay Packers in vantaggio 25 a 24 contro i San Francisco 49ers ma ci sono ancora 5 minuti sul cronometro bisogna solo vedere se i 49ers saranno in grado di sfruttarli adeguatamente si parte kickoff di Wisnowski che atterra in no di Wisnowski scusate ho detto uno stupidaggio di Mason Crosby che atterra in campo direi sì anzi abbastanza breve atterra sulle 6 yard line e Richie James riporta la palla di 18 e quindi praticamente Jimmy Garofalo si ritrova con un primo e 10 dalle 24 yard e adesso 5 minuti per fare il campo o almeno per riuscire ad arrivare a distanza di field goal tutto sommato sembra qualcosa che almeno i 49ers del primo tempo sarebbero in grado rifare quelli del secondo francamente non lo sappiamo anzi potremmo anche dubitare della cosa benissimo si parte primo 10 alle 24 si inizia con un'azione di corsa il corridore scelto è ancora Matt Breda che sta dividendo sulle portate con Mostert mentre praticamente Coleman è sparito dalla partita Breda volano fazzoletti gialli Breda tenta di girare l'angolo Breda gira l'angolo Breda subito fa una grande azione di corsa 13 yard per Breda ma fazzoletti gialli che sono volati penalità dell'attacco 15 yard la partita si è fortemente incattivita si danno mazzate di dimensione spropositate e quindi avremo un primo e 25 dalle proprie 9 yard e a questo punto anche qui si passa da un momento di gioia a un momento di seria preoccupazione perché primo e 25 dalle 9 e adesso signori è veramente complicato e i 49ers devono dimostrare di essere una squadra che vuole e può arrivare al Super Bowl e i 49ers forse si fanno prendere un po' troppo dall'ansia perché tentano subito la bomba la bomba viene lanciata verso gente che non c'è verso George Keetor si cerca il ricevitore più presente la difesa dei Green Bay Packers comunque si dimostra presente e però il lancio è completato il lancio è comprato per Keetor che potrebbe anche sbocciare nella sua miglior prestazione di ricezione dell'anno ribaltando di colpo la partita attenzione Keetor sta andando come un treno fatemi controllare se è riuscito a fare il longest dell'anno della stagione lui ha 6 come punteggio di longest è uscito un 3 quindi sarebbe bastato anche addirittura un 5 quindi Keetor fa la sua migliore ricezione sarebbero 61 yard che diventano 64 perché la difesa dei Green Bay Packers è stata presa completamente contropiede e attenzione perché di colpo dal dramma all'entusiasmo per i 49ers abbiamo un primo e 10 dalle 73 e signori siamo già in area da field goal i 49ers possono anche iniziare a pensare di addormentare la partita anche se forse ancora un po' presto mancano 4 minuti ma sicuramente hanno recuperato interamente il momentum della competizione grazie al loro tight end di cui non finiremo mai di elencare gli straordinari pregi Garoppolo si ripresenta per l'appunto dietro il centro dopo questa grande azione di nuovo un lancio ancora per Keetor che nonostante lo sforzo compiuto è ancora in campo lancio completato praticamente sfiorato da un difensore ma completato e Keetor che si fa altre 16 yard di recensione signori quando questo tipo di giocatori viene messo in moto diventa veramente dura per la squadra avversaria fermarlo e riuscire a trattenerlo primo e 10 dalle 89 quasi un primo gol 11 yard per arrivare alla endzone e 10 yard come sempre per chiudere il primo down è arrivato è arrivato Fabio ciao ciao oggi non c'è Dario hai ragione Fabio è un paio di puntate che sono solo sono tornato a fare le vecchie vecchie radio cronache in solitaria Dario tornerà con noi quando faremo la stagione 2020 nel frattempo anche perché adesso è via con gli scout insomma tutta una serie di cose ma mentre adesso invece concludiamo la stagione 2019 con la mia voce anche se so che appunto non è la stessa cosa benissimo stiamo sul primo e 10 dell'89 i californiani sono vicinissimi a un momento molto importante ma siamo ancora lì lì corrischio abbiamo un nuovo lancio questa volta per Emmanuel Sanders almeno se il lancio parte il destinatario è lui vediamo cosa ne pensa la difesa dei Green Bay Packers la difesa dei Green Bay Packers un attimo che ho sbagliato tutto la difesa dei Green Bay Packers dice che il lancio è incompleto siamo in Red Zone si chiudono le maglie e abbiamo una situazione insomma di difesa più orientata Sanders comunque a 3 target ha ricevuto solo una palla per 9 yard e ne approfitto per salutare Fabio dirgli anche anche lui penso che ormai sia in ferie come sottoscritto che le ha iniziate oggi e quindi per salutarlo e ringraziarlo per essere qui con noi anche se sappiamo che lui il fulino americano è uno dei suoi sport che non so adesso magari si è messo a tifarlo anche lui non so Fabio dici perché squadra tifi dici perché se lo segui dici se sei andato soprattutto in piazza a Roma a strombazzare fino alle 5 di notte domenica sera dopo la vittoria negli europei secondo i 10 c'era 89 per Garoppolo stavolta Shotgun Formation alla ricerca di un ricevitore libero Matt Breda nel backfield il lancio è proprio verso Breda diciamo così uno scaricamento ravvicinato Breda riceve il pallone riceve il pallone fa 4 yard almeno si avvicina all'end zone 12 minuti e 05 sul cronometro abbiamo un terzo e 6 dalle 7 yard difensive forse Fabio è scappato via perché ha seguito che non c'era mio figlio e quindi essendo un grande fan di mio figlio che non è vero senta sempre anche le mie trasmissioni ma sicuramente non è un grande fan del football sarà fuggito via urlando allora terza e 6 delle 93 i 49ers si presentano col più classico dei pro set formation per vedere magari per cercare di mettere in difficoltà la squadra avversaria in realtà dopo lo snap quelli in difficoltà sembrano loro Galoppolo non trova nessuno tenta di correre viene fermato sulla linea di scrimmage ma c'è una bandiera la penalità è dell'attacco la penalità è dell'attacco e sono 10 yard di penalità e qui c'è la solita situazione le prendiamo o non le prendiamo queste 10 yard beh io direi che un terzo e 16 è comunque meglio che un quarto e 6 e quindi si va sulle 83 16 yard per chiudere e vediamo se forse non lo so forse avrei dovuto non prendere un quarto e 6 ma io mi fido della secondaria Green Bay Packers poi invito gli amici esperti di football a correggermi o a insultarmi domenica ha seguito la finale un amico attore pignattare vogliamo sapere però Fabio se poi sei andato a sbronzarti ha avuto la tentazione di far casino a qualche parte ma poi dopo evidentemente ha avuto solo la tentazione perché non si è mosso di casa ma in fondo anch'io avendo appunto ad aprilia un po' di casino si è sentito poi non ci sono arrivate notizie particolari ma sicuramente a Roma c'è stata molto più confusione fino a molto molto più tardi benissimo la situazione non so chissà se riusciamo a finire la partita oggi mancano ancora 7 minuti di trasmissione vediamo c'è un terzo e 16 dall'83 assolutamente fondamentale e infatti abbiamo il lancio di Garoppolo vediamo per chi avverrà il lancio di Garoppolo destinato a Sanders ma vediamo se intanto parte questo lancio o se invece la difesa dei Green Bay Packers tenta di mettere le mani sul quarterback ex Patriots dei 49ers il lancio parte ma attenzione c'è il rischio di intercetto che non avviene però per fortuna dei Sanders praticamente fuori dalla partita oggi 12 e 30 sul cronometro 4 e 6 dalle 83 entra il field goal di Robby Gould da 34 yard per riportare in vantaggio i 49ers il field goal dalle 34 è preciso 12 e 40 sul cronometro e adesso di nuovo la palla passa ai Green Bay Packers che sono 27 a 25 con un field goal i Green Bay Packers si conquisterebbero la partita hanno tutti i time out ma hanno solamente 2 minuti 20 secondi per fare il campo calcio di Wyshnowski che va in touchback e Green Bay Packers rientrano con un primo e 10 dalle proprie 25 e adesso c'è il classico dubbio mettiamo su subito la 2 minute drill formation ho visto che bisogna fare solo circa 50 yard evitiamo io metterai comunque la 2 minute drill formation e quindi praticamente preparatevi a sentire un sacco di lanci perché in ogni caso 2 minuti e 20 secondi sono proprio pochi in ogni caso per fare il campo ah Fabio ha scelto di tornare a casa sarà tornato a casa le due di notte comunque suonando il claxon come un dannato e quindi comunque si avrai sicuramente fatto anche tu festa svegliando le povere persone disinteressate che stavano nella capitale bene primo e 10 dalle 25 per i Green Bay Packers vediamo subito se riesce il tentativo dei Packers di tornare in vantaggio che a questo punto potrebbe significare direttamente Super Bowl allora e si parte subito per non sapere leggere e scrivere con un tentativo di bomba anche se non so se la scelta migliore perché fino adesso Rodgers nei lanci lunghi non è che sia mai stato quest'anno almeno intendiamoci questo gran fenomeno bomba fra l'altro su Jones quindi su Running Back un insieme di attività particolari in ogni caso c'è un meno 5 che sarebbe stato lo stesso anche se non avessero dichiarato il vero problema il vero problema vediamo cosa succede il lancio è incompleto il lancio è incompleto 12.50 secondo e 10 dalle 25 difesa dei 49ers che deve cercare di compattarsi di nuovo in shotgun ovviamente li vedremo sempre così stavolta il ricevitore preferito è il tight end Jimmy Graham la difesa dei 49ers continua a essere assolutamente reattiva e il lancio anche questa volta è incompleto e siamo al two meno drill non sono serviti i time out perché comunque sia si è andata avanti con una serie di robe che non hanno avuto un gran risultato terzo e 10 dalle 25 per Aaron Rodgers di nuovo un lancio fortuna che c'è il two meno drill se no sarebbe stato una corsa e immagino già gli accidenti che sarebbero volati da parte dei tifosi dei Greenberg Packers l'uomo scelto è Geronimo Ellison forse non il migliore in queste situazioni ma sicuramente magari è un po' libero non è marcato si va al lancio c'è il completo riuscendo a superare praticamente una pressione enorme da parte della difesa dei 49ers che quasi mette le mani su Rodgers ma comunque il completo c'è ma c'è anche il grandissimo effort difensivo dei 49ers che placcano Ellison due yard prima la chiusura del down il primo timeout di Green Bay viene speso e c'è un quarto e due dalle 33 yard e qua si decide praticamente tutto quarto e due dalle 33 yard di nuovo un lancio di nuovo un lancio di nuovo un lancio stanno continuando ad uscire i miei giocatori non presenti si cerca il fortissimo Devante Adams che è un po' che non vediamo in partita tra l'altro Devante Adams la difesa dei 49ers come sempre assolutamente presente il lancio attenzione parte ancora lo scramble c'è lo sec c'è il sec c'è il sec c'è il sec 9 yard di sec su su Rodgers sec effettuato dal giocatore Eric Armstead e a questo punto loss for down 13 e 40 sul cronometro i 49ers possono veramente addormentare la partita e sentirsi già al Super Bowl perché abbiamo un primo e 10 dalle 24 dalle 76 yard offensive dei 49ers Rodgers esce particolarmente scornato non so cosa pensa non so se il problema è la linea offensiva o probabilmente il fatto che non abbia ricevitori che sappiano liberarsi quindi basta raddoppiare Adams e quegli altri più o meno vengono fermati non lo so non lo sapremo sappiamo che praticamente la partita è sostanzialmente finita qua così come è finita qua la puntata se succede qualcosa ve lo scriverò nei commenti ma altrimenti domani ci vedremo Super Bowl Baltimore Ravens contro Green Bay Packers siete tutti invitati così come siete tutti invitati a sentire gli ultimi 15 secondi della nostra nuova sigla Activate Your Power di Andrew Sickoff ciao a tutti grazie Fabio per averci fatto compagnia oggi e per le strombazzate un po' di